Siamo qui con Gianluca Bertozzi, dirigente della Difesa, che ha accettato di scendere in campo per il patto per l'autonomia alle prossime regionali. Perché questa scelta e quale impegno vuole portare in regione? È una scelta data dal sentimento, dal profondo rispetto e grandi considerazioni che ho per il popolo friulano. Gente, persone veramente grandi che hanno reso grande questa regione. Uno dei miei temi che stanno più a cuore è quello relativo all'agroalimentare e di conseguenza anche al turismo legato alla cultura, alla storia, alla grande storia di questa regione. Abbiamo tantissime eccellenze, eccellenze come dicevo dell'agroalimentare e questa mattina assieme ne abbiamo visitata una delle tante. Credo che questo possa veicolare moltissimo il turismo in regione, non quel turismo mordi e fuggi che c'è quest'oggi, quel turismo di passaggio, ma un turismo più stanziale, che ci renda più onore alla nostra storia e alla nostra cultura. Questo può essere fatto lasciando da parte quelle che sono le continue espansioni dei centri commerciali tradizionali che ci portano prodotti che nulla hanno a che fare con il nostro territorio e invece valorizzare quelli che sono i prodotti locali. Quindi uno sviluppo delle attività locali che favoriscano un turismo più stanziale. Penso alle varie realtà produttive, alla grande cultura che ha questa terra e quindi le varie attrattive. Un esempio può essere la ciclovia Alpe Adria che sì è un buon punto d'inizio, ma costruire una rete che porti poi i nostri turisti a visitare i luoghi più suggestivi della nostra regione favorirebbe ancora di più quelle che sono le presenze in termini di ospitalità nella nostra regione.